Mettilo intorno al palino, ci sono tutti sporchi dai, mettilo al palino, lui, lui, mettilo intorno al palino la carta, e mangio al colpito dai, fattoạpe o smettano a proclamarlo, lasciate un po' più avv Jac車, facciamo una cosa anche lui, facciamo una cosa e se l'a mare sarebbe moon sfrutino gli altri? facciamo una cosa, un applauso forte e forte uno, dai insieme però nel frattempo che la morte di Gesù si prepara si prepara e lo fa con l'accia alla primavera un po' di filmino per la crota non mi chiede più se il re cuore se il re cuore è è omarie, è omarie è una bellissima persona e la non c'è un'altra cosa si, non sono come dicevo che i suoi amici partiva dagli anni 60 con i uomini e con gli anni 90 quindi vi accontenterò noi vieni qua e svegliamo l'anima e arrivare giusto si, è tutti va bene va bene va bene va bene e va bene va bene va bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti